Ma cosa mi sta succedendo? Mi basta pensare se questo elastico diventasse una collana. Ecco, vedete? È una collana. Che sorpresa! Ma cosa mi sta succedendo? Aldo Giuffre in Ma cosa mi sta succedendo? Bene, seguitiamo dopo colazione, ma dovremo sbrigarci perché la relazione deve essere spedita entro le quattro. Buon appetito. Grazie. No, no. Scusi, ma qui c'è mio zio. Mi dispiace, ma hai posto. Mi accente, ma hai occupato dalla signora. Scusi, sapevo. Che gente. Scusi lei. Scusi. Il vecchio zio, la signora. Io sono buono, ma adesso ho fame. Io vi farei sparire tutti. Buongiorno, signore. Si accomodi, la prego, da questa parte. Prima un aperitivo, signori. Acqua di rose, signora. Prego, per lei abbiamo riservato il posto d'onore, il tavolo delle celebrità. Ma cosa mi sta succedendo? Ma cosa mi sta succedendo? Però con quel fisico, alla sua età, è proprio dura la vita, eh? Eppure basterebbe, non so, un motorino, uno scooter. Ma cosa mi sta succedendo? Eppure sono un uomo normale, vesto normale, mangio cibi normali, bevo... Eh, no. Non bevo più acqua normale. Ora bevo... Idrits. Acqua preparata con Idrits. Acqua super. Sì, guardate. Visto? Normale e super. Da oggi in casa mia, solo Idrits. Perché solo Idrits è super.